Come gestire i sorgenti? Ciao, io sono Michele e in questo video andiamo a vedere come gestire una codebase in termini organizzativi per incentivare le attività di team e mantenere la codebase sul lungo termine. Sigla! Ah, mi raccomando, se questo video ti piacerà o imparerai qualcosa, metti un mi piace e iscriviti al canale così sarai notificato sui prossimi contenuti. L'istituto di ricerca Dora individua tale capacità tecniche dei migliori team dei top performer la code maintainability, cioè come viene gestito e mantenuto il sorgente, il codice, nel lungo termine. Ormai tutti i sistemi richiedono tantissime righe di codice per poter funzionare. Ad esempio il sistema operativo Android contiene circa dalle 12 alle 15 milioni di righe di codice, un'applicazione per smartphone media ma anche di piccole dimensioni va a raggiungere tranquillamente 50.000 righe di codice e così via. Quindi è fondamentale che un team faccia un eccellente lavoro per mantenere la codebase sul lungo termine. Ma vediamo che cosa significa e cosa dobbiamo fare veramente. La gestione di una codebase implica la gestione dei sorgenti e la gestione delle dipendenze. Andiamo a trattare ciascuna delle due cose in maniera separata. Quindi la gestione dei sorgenti, il codice vero e proprio, ok, deve essere facile trovarlo, farci ricerche, ricerche, ok. In questa maniera posso anche, devo poterlo riusare e poter proporre cambiamenti, cambiamenti quando io non sono l'owner, dove non sono owner. In questa maniera cosa significa? Che io tipicamente in una realtà complessa lavoro su alcune codebase dove ho accesso a scrittura, in tutte le altre accessi di lettura. Però se trovo un problema in una dipendenza, in una codebase di altri, voglio poter contribuire e proporre dei cambiamenti. Tipicamente con un processo leggero, strutturato ma non pesante, quello che potrebbe essere tramite una codebase, una pure request, ok. Quindi vado a notificare al team proprietario di quella codebase che ho identificato un problema e non solo, ma ne propongo anche una soluzione. In questa maniera, implementando queste best practice sui sorgenti che con piattaforme di oggi, quali possono essere dei GitHub, un GitLab, un Azure DevOps, un Bitbucket, eccetera, che forniscono tutte queste funzionalità, che cosa vado a fare? Vado a fare tempi, che cosa ottengo? Ho tempi di sviluppo più rapidi perché posso cercare nella codebase senza dipendere da altri, posso leggere ovunque, posso imparare, mi posso documentare in autonomia. Ho una qualità più alta perché se posso intervenire, posso imparare dagli altri, posso proporre miglioramenti con processi leggeri e rapidi, nel lungo termine la qualità dei miei sorgenti sarà sempre più alta. Ok? Quindi questo ne risentirà ora della fine i miei livelli di servizio, livelli di servizio, il che significa che i miei clienti ora della fine avranno un prodotto di qualità maggiore, ok? E quindi con magari meno incident, meno bug, eccetera, eccetera. Quindi dei grandissimi benefici a gestire in maniera, in modalità inner source, in modalità in trasparenza, le codebase all'interno dell'azienda. Andiamo a vedere invece adesso come gestire le dipendenze. Le dipendenze sono importantissime ed è un problema tipico, è di solito anche abbastanza doloroso per i software team. Mantenere le dipendenze, quindi cosa intendiamo? Intendiamo tutte quelle che sono le librerie e i componenti di terze parti. Possono essere terze parti, diciamo, interne al team, all'azienda, possono essere terze parti completamente esterne, quindi pacchetti open source che io vado a scaricare da quelli che sono gallery NPM, gallery Nougat, Maven, a seconda della tecnologia. Mantenere bene queste dipendenze è un punto estremamente importante perché io nei componenti in terze parti potrei introdurre vulnerabilità nel mio prodotto a causa di librerie di terze parti che non conosco. Quindi delle cose essenziali è assolutamente tenere traccia di tutte le librerie che utilizzo e saperne il loro stato e se contengono vulnerabilità. Ci sono due modi in cui di solito le dipendenze vengono gestite all'interno di una soluzione software. La modalità cosiddetta a manifest che è quella utilizzata dalla stragrande maggioranza dei team e nei progetti dove abbiamo appunto tecnologie come NPM, Nougat e Maven che hanno un file di manifest che va ad elencare, può essere un file json, un file xml o un puro un altro formato ma è un file dove all'interno andiamo a trovare tutte le dipendenze che il mio software utilizza, tutte le librerie xyz, libreria abc con la versione di cui necessita v1, v2, v3 più e così via. Questo è l'approccio a manifest ed è quello più utilizzato che rende anche facile sapere in modalità Bill of Material una sorta di distinta base di quello in cui il nostro software ha bisogno. L'altra modalità è quella che viene chiamata Vendoring, il che significa che noi andiamo a prendere una determinata libreria dipendenza, può essere una DLL, può essere un file binario oppure addirittura possiamo andarci a prendere i sorgenti e li inglobiamo all'interno del nostro repository, li portiamo dentro da noi, li gestiamo da noi. Non importa quale approccio ci stia utilizzando, l'importante è comunque che tu abbia tracciabilità e riproducibilità. Altre pratiche importanti per la gestione di una codebase sono sicuramente mantenere o meglio gestire il debito tecnico. Mano a mano che le codebase crescono il debito tecnico è un aspetto estremamente importante, dobbiamo essere in grado a livello di organizzazione aziendale, quindi averlo nel nostro mindset, capire che è importante di avere delle pratiche di gestione, del tempo, dedicare del tempo alla gestione del debito tecnico in termini di mindset, processo. Ma dobbiamo avere anche delle tecniche di gestione, quindi essere in grado, la nostra codebase deve essere, poterlo supportare delle attività di refactoring e questo arriva quando la nostra architettura, la nostra codebase è loosely coupled. Quindi abbiamo poche, non è uno spaghetti code con strettissime dipendenze al proprio interno, ma le parti sono modulari e possono essere più o meno cambiate in maniera indipendente tra di loro. Questa è una parte estremamente importante per avere una codebase che si possa mantenere nel tempo ed evolvere per poter continuare a soddisfare le richieste cliente. Infine, dobbiamo mettere in piedi la gestione delle dipendenze. La gestione delle dipendenze è importante perché io, soprattutto, potrei introdurre vulnerabilità. Vulnerabilità senza accorgermene. Ok? Quindi devo avere un processo di gestione che mi permetta, in maniera cadenzata, che ne so, regolare o strutturata, di poter validare gestione e aggiornamento, direi. Di poter validare le librerie che utilizzo e aggiornarle nel caso ne avessi bisogno o con frequenza o sapere quando ci sono delle vulnerabilità e poterle aggiornare. Per oggi, con le pratiche tecniche individuate nel Dora Colmordel, ci fermiamo. Qui abbiamo parlato di code maintainability e del mindset da avere per gestire una codebase in team e sul lungo termine in maniera sostenibile. Ciao! Ciao!